Il bando di gara è la prossima conferenza dei servizi sul nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. Lo Stato Generale della Sanità in Campania, la cosiddetta norma anti De Luca, il futuro dei presidi ospedalieri in provincia di Salerno, in particolare quelli di Polla e di Sapri. Il consigliere alla Sanità del governatore De Luca Enrico Coscioni traccia un'analisi a 360 gradi sul momento dell'intero settore in Campania e soprattutto in provincia di Salerno. Stamani, a margine dell'incontro promosso dai pensionati della CISL, il cardiochirurgo si è detto ottimista ma non ha lesinato, comunque critiche per alcune decisioni del governo. Si parte ovviamente dal recente bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Salerno e dalle firme eccellenti e prestigiose che potrebbero realizzarlo. Siamo a pochi centinaia di metri dall'azienda ospedale di Ruggi in questo momento. Se leva stamattina a Ruggi, come tutte le mattine, è sovraffollatissima e a collasso perché chiaramente è la cosa straordinaria, l'ho detto anche prima nel mio intervento all'assemblea dell'arrivo della facoltà di medicina, ma poi ci sono gli studenti di sei anni di medicina, gli specializzanti, i corsi di infermieri, gli ostetici, gli ausiliari. Per cui questa cosa meravigliosa di avere anche questa linfa vitale, questa innovazione grazie anche all'università è chiaro che la struttura non ce la fa, è una struttura vecchia, fatiscente, tranne la nostra Torre Cuore. Tutto il resto era impossibile pensare di reattare e ristrutturare una sanità non del futuro, una sanità che già di oggi, io credo che una politica degna almeno di questo nome deve guardare almeno a dieci anni, pensare di fare sanità nei prossimi anni in una struttura comunque che riguarda gli anni 50-60 e il fatto di individuare un'area vergine in cui speriamo che arrivi un'impresa di grandissimo livello europeo con un archistato, che poi sapete il Presidente ci tiene molto, il Presidente De Luca anche che abbia un aspetto di particolare interesse architettonico, dandogli un'area vergine possa fare una realizzazione in tempi credo molto interessanti. Inevitabile un passaggio sul provvedimento che impone al Presidente De Luca di lasciare la carica di commissario straordinario alla sanità per incompatibilità, la cosiddetta norma anti De Luca. Io dico che una persona che è stata democraticamente eletta è che il Presidente di una regione è che la sanità rappresenta il 75-80% del budget di una regione e non è responsabile questa persona di nessun problema o sfascio impedirgli di fare l'amministrazione ordinaria la trova una cosa senza senso. Il cardiochirurgo tradisce ottimismo anche sul futuro dei presidi di Polla e di Sapri. Ma siamo fiduciosi, abbiamo tra dieci giorni il tavolo di verifica finale, abbiamo ripresentato la deroga per i punti nascita, abbiamo chiarito, sa anche per queste aree ci sono delle contraddizioni in termini, abbiamo avuto i fondi per le aree interne in cui si diceva implementiamo con questi fondi anche l'area materno-infantile, poi chiudere i punti nascita sarebbe poco spiegabile. Io vivo una duplicità perché essendo anche nel CDA dell'Agenzia Nazionale della Sanità so bene quanto sono stringenti alcuni termini anche nell'interesse della gente, delle mamme, dei nascituri, però chiaramente quando c'è una difficoltà oggettiva dal punto di storiografico credo che vanno sostenute queste iniziative. Grazie. Grazie. Grazie.